Buonasera, buonasera, bentornati, eccoci qui, siamo in diretta su YouTube, sia sul mio canale che su quello di Umberto, che saluto, e salutiamo anche Luigi Marattin, bentornato Luigi. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti. Come sempre invitiamo a lasciare un mi piace per supportare le dirette e senza perdere altro tempo direi di cominciare, perché siamo qui oggi. Qualcuno nei commenti, quando abbiamo annunciato la diretta, diceva ma sono d'accordo sul super bonus, perché fare un confronto? Fondamentalmente ora credo che sul fatto che il super bonus sia stato un disastro, oggi siamo tutti d'accordo, qui presenti, però ci sono alcune cose che Umberto, con un ottimo approfondimento, che poi è stato anche rilanciato su Pagella Politica, ha portato avanti e quindi abbiamo deciso di organizzare questo incontro tra persone adulte. Comunque ringraziamo ovviamente anche Luigi per la disponibilità, perché poi Umberto lo spiegherà sicuramente meglio. La misura del super bonus, quando fu adottata dal governo Conte II, fu supportata praticamente da tutte le forze politiche. Ora cercheremo di capire in che modo, cos'è successo, ricostruendo un po' la vicenda. Ecco, quindi io non rubo altro tempo e lascio parlare, chi ne sa più di me, direi di partire con Umberto. Ok, va bene. Allora, prima di tutto ringrazio chiaramente Marattin e Teivan per la disponibilità su questo tema. Io, prima di partire, comunque ci tengo a dire che non voglio trasformare il tutto in una cacciara e vorrei invece far emergere quello che è successo. Anche perché credo che sia una cosa utile sia a Marattin, nel caso appunto io abbia perso alcuni elementi lungo il racconto, sia diciamo al pubblico che ci sta seguendo. Quindi, a prescindere diciamo da poi tutto quello che diremo più tardi, forse è utile che Marattin parta dal background in cui ci trovavamo a maggio del 2020, quindi in quelle ore, visto che appunto lui spesso e volentieri fa accenno alla situazione di Crippa, all'ultimatum del Movimento 5 Stelle in relazione al DL Rilancio. E quindi, se magari appunto l'onorevole vuole partire da quell'evento, secondo me sarebbe utile, anche per chiarire a tutti il contesto. Sì, certo, lascia stare l'onorevole Umberto, Luigi e basta da me. No, grazie a entrambi, io ogni volta che sono in tv sollecito sempre qualche trasmissione televisiva a un'operazione verità sul Superbonus, non è quasi mai accaduta, sono contento che ci sia questa occasione. Allora, sì, poi ditemi voi i tempi perché io quando inizio a parlare, ahimè, non mi fermo più, quindi seguo il consiglio di Umberto, faccio il background, ma poi ditemi come vogliamo procedere. Il background eravamo nell'aprile, inizio maggio, perché era ancora lockdown, quindi insomma aprile sicuramente, del 2020. Grazie a Dio quei tempi sono lontani nella memoria e eravamo appunto nella situazione che ricordate, l'economia stava crollando e intanto qual era l'assetto? C'era il governo Conte II, appoggiato da Italia Viva, io non ero nel governo Conte II, ma ero, non ero neanche presidente della Commissione Finanze, lo diventai nel luglio di quell'anno, ero responsabile economico di uno dei partiti di maggioranza, Conte aveva l'abitudine di, diciamo, nei provvedimenti economici, consultare i ministri economici e i responsabili economici dei partiti e quindi in quell'occasione era una domenica, ci chiamò Palazzo Chigi, ricordo che avevamo il permesso per poter uscire di casa appunto che c'è il lockdown, e tutti in un pomeriggio intero, fino a notte, con Roberto Speranza, con il ministro Gualtieri, con Dario Franceschini, che era ministro anche lui, insomma, con tutto il cucuzzaro, Saccaro, che fu il vero, diciamo, promotore di questa roba, dice, in realtà la riunione era per fare il decreto rilancio. Il decreto rilancio era il più grande provvedimento della storia della Repubblica, perché erano 155 miliardi di aiuti sul saldo netto da finanziare, corrispondevano a circa 70 sull'indebitamento netto, non perdiamo tempo a spiegare la differenza, ma i 70 miliardi di manovra, e contenevano, diciamo, il defibrillatore per un'economia che stava morendo, quindi rimborsi, cassa integrazione, garanzie di liquidità, avevamo da poco fatto il decreto liquidità, ma insomma, il defibrillatore per evitare che l'economia morisse, la riunione era per quello. In quell'occasione, Fraccaro disse, qui ci mettiamo anche un potenziamento dei bonus edilizzi. Io lo dico subito, ne parleremo dopo, perché ne parlavo stamattina con Luciano Capone. Io non credo che tutti i bonus edilizzi siano sbagliati, perché adesso poi in Italia noi non riusciamo mai a fare dei dibattiti sereni, facciamo subito le polarizzazioni. I bonus che c'erano prima, che erano comunque tra i più generosi in Europa, forse i più generosi in Europa, non credo ci sia nulla di male in quel tipo di bonus. Non so se avete visto qualche settimana fa, il 29 marzo, ma anche di questo parleremo, quindi dopo, insomma, sull'importanza dell'edilizia, ecco, perché anche qua si sono dette cose esagerate in entrambi i sensi, ma ne parliamo dopo. Concludo il background dicendo che si propone di fare un incentivo potenziato per 12 o 18 mesi, al 110% rispetto a quello che c'era, diciamo, normalmente c'era il 50, c'era il 65, e forse c'era già il 90, non ricordo se ci fosse già il 90, quello viene da Facciate, che viene da Franceschini. Parte la discussione, e io personalmente, lo dico tranquillamente, non avevo grosse cose in contrario a uno shot in the arm di 12 mesi potenziato, o ex post, dopo aver visto i dati del moltiplicatore, ritengo che sia stato... poi qui l'equivoco è pensare che l'economia sia una sorta di... cioè che in ogni momento c'è da qualche parte la realizzazione dei dati futuri e la gente li deve andare a scoprire per vedere cosa succederà. Nessuno sa al momento T come sarà l'evoluzione delle politiche negli anni T più N. Io dicevo, volete fare un incentivo potenziato per 12 mesi? Fine, proviamoci. Ovviamente ora, dopo aver visto i dati, dico che il costo opportunità di quell'investimento è stato eccessivo. Ma non ho difficoltà a dire che la vera battaglia che internamente condussi già in quell'occasione fu sull'articolo 121, cioè i 5 stelle oltre al 110, ripeto, si poteva dire ex ante perché avrebbe distorto gli incentivi di prezzo sicuramente, però la valutazione che facevamo e che feci anch'io all'epoca è che in quella situazione, per 12 mesi limitato, uno shot in the arm poteva anche essere utile data la configurazione dell'economia italiana su cui torneremo. Ma l'articolo 121, quello che poi divenne il 121, in realtà all'inizio era un'altra cosa, disse no, però non basta questo, dovete rendere tutti i crediti d'imposta derivanti da tutti i bonus edilizi liberamente circolabili, la famosa moneta fiscale. Quella roba che già avevo addocchiato, perché i 5 stelle all'epoca su questa cosa della moneta fiscale ci costruivano dei discorsi, loro, borghi, eccetera, mi disse, guardate, questa è una sciocchezza, questa è una vera scemenza, questa non la fate perché creerà problemi. E rimango convinto che il principale problema di questa vicenda sia stato questo, cioè la libera circolazione dei crediti per una serie di motivi che poi discutemmo. Quindi, in conclusione, io non espressi sul momento, non avevo insomma la perfect foresight, il fatto che il 110 in quanto tale avrebbe comportato, il 150 in quanto tale, senza l'accessione dei crediti, in quel momento, in quella condizione, non avevo la percezione che stavamo distruggendo il mondo. Non ce l'ho neanche adesso, ma ne parleremo dopo. Il vero problema fu nella cessione dei crediti, ma i 5 Stelle, già in quella sede e in quelle seguenti, dissero per noi questa mossa, il punto 10, che è circolazione dei crediti, libera, è la precondizione per poter dar vita al decreto rilancio. E in quell'occasione, noi, che già in quei mesi eravamo sotto accusa, o lo diventammo poco dopo, vi ricordate, lì c'era la prescrizione, cioè noi volevamo far cadere il governo Conte per l'abolizione della prescrizione di Buonafede. Poi ci fu Plastic Tax e Sugar Tax, su cui dicemmo, guardate che è una scemenza, fra l'altro il primo giugno ritornano in vigore, parentesi. Eccetera, Italia Viva, è vero che era decisiva per le sorti del governo, ma eravamo in un clima in cui ogni cosa che diceva Italia Viva veniva interpretato come il ricatto, io posso raccontare scene terribili anche su questo senso, e in quell'occasione noi non ci sentimmo di dire allora cade il governo nel maggio 2020 col paese in lockdown, perché su 300 articoli del decreto rilancio ce ne sono due, un e mezzo se volete, su cui riteniamo esserci un problema. È una scelta, come ho detto a Umberto varie volte, che rivendico, che è molto facile dopo fare, diciamo, valutazioni, ma sul momento togliere un appoggio... Chiedo di stringere Luigi così... Scusami, ragione, grazie, è una scelta che rivendico, e poi ovviamente le valutazioni su come è andato il super bonus le possiamo fare tranquillamente insieme, e molto probabilmente pensiamo più o meno la stessa cosa. Sì, esatto, io parto... Mi sentite, vero, spero? Sì, sì. Io ho sempre il dubbio di averlo chiuso al microfono, perdonatemi. Io parto da un primo fatto. Tu, ti do del tu perché mi hai detto prima di darti del tu, hai definito però in sede, in particolare io mi sono segnato la seduta 366 di lunedì 6 luglio 2020, suppongo che ancora non fossi, diciamo, il rappresentante della Camera, tuttavia eri comunque il relatore per quanto riguarda il super bonus, o comunque di tutto il DL rilancio, ecco, lì definivi la misura, una misura di traino per l'economia. Quindi questo un po' differisce rispetto a quanto hai raccontato poco fa. Quindi una misura di traino è un qualcosa che può dare un valore aggiunto. Tuttavia, se io vado a prendere il pil per occupato nel settore delle costruzioni, sto intorno ai 90k, contati male o contati meglio, stiamo forse sui 100. Fa niente, non è un problema. Ecco, 100k, metterci sopra anche mezzo miliardo, due miliardi, o quello che vuoi tu, non so quanto posso portarti indietro. Tant'è vero che poi è uscito il report sugli immobili, sul settore immobiliare della ragioneria generale dello Stato e lì ci danno un moltiplicatore fiscale che sta intorno allo 05, 06, cose di questo tipo. Ha riportato Capone appunto qualche settimana fa o forse anche qualche mese fa. Dopodiché l'altro dubbio è anche su questi 12 mesi. Tu dici, facciamo il super bonus per 12 mesi e vediamo come va. C'è anche un'intervista a Sky TG24 in cui lo riporti ancora verso il finire del 2020. Tuttavia, mi chiedo, benissimo, provare. Tante volte, come dici bene, non riusciamo a modellizzare il futuro in economia. Anzi, la cosa più difficile in economia è sapere come andrà il futuro e penso che chiunque abbia fatto un po' di macro, un po' di micro, un po' di economia, è abbastanza consapevole di questo elemento. In quanto, diciamo, gli agenti economici, senza farla troppo lunga, variano le loro aspettative a seconda dell'indirizzo di policy. Tuttavia, voi poi avete proposto di allungare il super bonus con Consatti, con Fregolent, anche con Di Maio, Marco Di Maio, chiaramente, e non solo questo, ci sono diversi emendamenti da toccafondi, passando per Ungaro, che promuovono un allargamento del super bonus e in tutta onestà vanno incontro a vostre dichiarazioni, anche fatte su Twitter o su Facebook. Mi ricordo Maria Elena Boschi a maggio del 2020 chiedeva l'intervento da parte dello Stato per migliorare il settore alberghiero, in particolare, andando a migliorare le infrastrutture, le strutture del settore alberghiero, proponendo appunto un bonus edilizio. Dici bene quando dici che appunto tutti i partiti sono stati abbastanza d'accordo sul super bonus, anche azione, o quantomeno azione in un primo momento era fissata su altri temi che poi raccoglierai insieme a voi, tipo ad esempio il messo sanitario e vi discorrendo. Però tuttavia anche azione poi successivamente proporrà l'allargamento di questa gestione del credito. Quindi tornando al tema, senza coinvolgere poi altri partiti che in questo caso non possono difendersi, quindi chiedo scusa, tornando al tema, tu fai un post sul tuo blog in cui dici il vero problema del super bonus non sono i soldi, ma è l'imbalcatura burocratica sostanzialmente. Ecco, ad oggi mi sembra che il vero problema del super bonus probabilmente sono i soldi, detto francamente. Sono 212 miliardi di spese se non vado errato da un aderso. Quindi non so, da questo punto di vista ho qualche perplessità. Allora, mi sono segnato tre punti. Sì, vai pure avanti. Allora, sul primo, il traino. Sì, sì, lo rivendico il traino perché, ragazzi, è evidente che quando sentiamo chi è col diretti che dice 500 miliardi di peso, ogni associazione di categoria tende a esagerare il peso del proprio settore sull'economia che hanno sulle picchezze. Ed è vero che il valore complessivamente l'edilizia, non ricordo se 4 o 6% del valore aggiunto, insomma, una cifra molto bassa. Il 70-72% dell'economia italiana sono i servizi, come sapete, però i servizi, il terziario nel loro complesso, presso singolarmente ogni settore anche del terziario ha un'influenza diciamo negligible da questo punto di vista. Ecco perché ovviamente ogni prima politica per risollevare PIL e valore aggiunto va, secondo me, sulla liberalizzazione dei servizi. Però, al di là di come la pensiamo, guardate, il 29 marzo, vi stavo dicendo prima, l'avevo recuperato prima, l'Istat ha pubblicato il rapporto sulla competitività 2024, dove individua otto filiere che vengono definite sistemiche, a rilevanza sistemica, cioè elevata sistematicità. Queste otto filiere non sono belle da vedere, perché sono quasi tutte filiere a basso valore aggiunto. L'Istat, dopo magari vi do il documento e il link, queste otto filiere, cioè definite come quelle a maggiore capacità di incidere sulle dinamiche complessive del sistema, sono agroalimentare, mezzi di trasporto su gomma, energia, edilizia, abbigliamento, macchine industriali non dedicate, farmaceutiche e cura di persone, animali e case e la sanità. Le imprese di queste filiere generano il 56,4% del valore aggiunto e il 52,3% dell'occupazione totale delle unità con almeno tre addetti. Adesso, io purtroppo non so farlo su Zoom, ma vi giro la nota stampa del rapporto. Allora, questo che cosa vuol dire? Ripeto, perché a me non piace? Perché raffigura tutte filiere a bassa capacità di generare vero valore aggiunto? Però sono una fotografia dell'economia italiana. Quindi io contesto che stimolare l'edilizia in generale non serva in una situazione di dramma come quella dell'aprile e maggio 2020 non servisse a risollivare il PIL. È un'affermazione che contesto molto tranquillamente. Per questo rivendico di aver detto guardate che un incentivo potenziato e poi arrivo al secondo punto che è la durata, il defibrillatore lo attacca al cuore dell'economia italiana e credo, ripeto, che perlomeno il rapporto ISTAT confermi questa impostazione. Ripeto, lo dico con relativo rammarico perché mi piacerebbe che le otto filiere sistematiche fossero nanotecnologie e qualcosa del genere. Sul moltiplicatore ovviamente voi sapete che la stima più attendibile le UPB e Banca Italia danno un moltiplicatore, danno circa due punti di PIL come effetto del superbonus sul biennio 21-22 che ha chiuso se non ricordo male a 13 punti quindi su quei 13 due vengono identificati come merito del superbonus il che considerando la spesa in quegli anni Non era il 12 quindi come dice qualcuno? Ma no, quelle sono scretinate totali ma è ovvio insomma, chi è stato Simone Spezia che gliel'ha detto a Conte in diretta con una scemenza ma viene continuata a ripeto il che è considerato i soldi spesi da un moltiplicatore in effetti più o meno dello 0,5 insomma poi stiamo chiedendo di aggiornare in commissione bilancio i dati secondo punto durata sì è vero perché ho detto di prolungare perché se ci guardate e questo risponde anche alla terza domanda non sono i soldi rivendico anche quella ma spiegandola ovviamente perché il punto qual è? cioè quando viene approvato il decreto rilancio e viene convertito il insomma giugno 2020 chi sta a casa o chi ci segue dice perfetto dal primo luglio 2021 è operativo il super bonus in realtà il super bonus divende pienamente operativo a fine 2021 se ci pensate se guardate anche i dati di spesa cioè un anno e mezzo dopo dopo 21 modifiche normative perché la situazione fu talmente complicata che richiedette no questo punto non l'ho capito se puoi ripetere perdoni sì cioè allora il decreto rilancio va in gazzetta ufficiale nel giugno 2020 quindi diciamo non ha detto i lavori si immagina che dal primo luglio dal giorno dopo io vado faccio il super bonus e scattano i 12 mesi in realtà la successione di modifiche normative e di circolari dell'agenzia delle entrate rende pienamente operativo il super bonus e lo potete verificare dai dati di tiraggio che infatti nel 20 sono 0 nel 21 sono bassissimi esplodono nel 22 nel 23 no? lo vedete anche pubblicati stamattina esplodono esplodono non sono 0 sono 0 nel 20 se non ricordo male sono bassissimi nel 21 il super bonus diventa operativo cioè la normativa viene sistematizzata e viene dato il ready to go nei fatti molto tempo dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale questo perché rispondo anche al terzo punto un po' perché siamo un paese che fa casino sempre quando legifera sempre compreso in quel senso e punto terzo punto perché intendevo dire non erano i soldi perché se voi ci pensate la modifica più importante del super bonus fu fatta quando si disse guarda anche se hai un piccolo abuso lo sani e puoi fare il super bonus quindi il discorso era la pratica edilizia del comune era la velocità con cui i comuni svolgevano le pratiche edilizie in posti in cui il catasto è ancora a mano rendeva l'implementazione l'avvio di quella disciplina temporanea era molto molto lenta allora per questo noi dicevamo scusate lo dovete fare per 12 mesi facciamo partire questi 12 mesi perché finora al momento non erano nei fatti partiti perché un po' le pratiche edilizie dei comuni un po' la normativa confusa un po' le circolari quando si parte si parte e come dire poi è stato prorogato anche tanto infatti questo è l'ultimo punto di risposta allora io non ho nessun problema a dire che ci sono stati dei parlamentari del mio partito che hanno fatto emendamenti di proroga certo vanno guardati bene ciascuno perché quello di Toccafondi se non ricordo male era sugli ACP o comunque insomma andavano a sanare proprio perché in Italia quando si leggifera si fa quasi sempre casino si dimentica o si aggiunge o si mette una cosa che non doveva essere o viceversa secondo me alcuni di questi sicuramente quello di Gabriele andavano come dire a sanare una difformità ma non ho problemi a dirti che alcuni dei nomi che hai citato erano genuinamente convinti di prorogare il super bonus che non era la linea ufficiale di Italia Viva ma qui ragazzi c'è il problema più grande ci sono stati tutti i partiti che una volta che la giostra è iniziata hanno o ufficialmente o con loro parlamentari o perlomeno con persone che afferivano al loro gruppo parlamentare tutti hanno detto oh sai cosa c'è la gente è contenta i costi ancora non si vedono a parte che molti di quei partiti se ne fregano anche se i costi si vedono andiamo avanti quindi come dire volete prenderla con i parlamentari di Italia Viva che senza che fosse la linea ufficiale del partito hanno fatto quegli emendamenti fatelo pure ne siete ovviamente legittimati dopodiché purtroppo il problema è molto più grave di Italia Viva cioè quando il super bonus è partito non c'è stato un partito dello spettro politico italiano che abbia detto aspettate che non che lo fanno questo l'abbiamo detto insomma a lui se dobbiamo essere per carità la posizione non la posizione diffida a trovare qua non stiamo io penso che qua non stiamo cercando di distinguere quel partito rispetto all'altro e fare dei paragoni perché altrimenti stiamo mettendo secondo me sul piatto una fallaccia logica cioè noi ci stiamo chiedendo oggi sui conti pubblici gravano 200 erotti miliardi di euro che sono abbastanza importanti vedendo anche la media di età di chi segue entrambi i canali sia il mio che quello di Ivan e tra l'altro mettete like anche adesso non soltanto all'inizio e andiamo oltre chiaramente saremo noi tenuti a sostenere questo debito col nostro reddito quindi con la nostra crescita sostanzialmente quindi chiaramente qui non stiamo cercando né di fare il tribunale del web lo ripeto tuttavia d'altro canto vogliamo capire chi è che poteva intervenire e chi non l'ha fatto a tal proposito io mi ricordo che UPB destinava alla quinta commissione della camera quindi quella che banalmente di cui facevi parte un'audizione informale io l'ho scorsa la legislatura ero presidente della sesta finanze comunque va bene ok le audizioni dell'UPB sì sì non c'è problema perché poi vedevo comunque che sulla quinta c'era abbastanza presenza tua comunque va beh fa niente mio errore da questo punto di vista e lo rettifichiamo subito anche perché l'ho detto anche in scorse occasioni quindi grazie mille e quindi in questo caso chiedo scusa per questa confusione tuttavia andando oltre c'era questa relazione dell'UPB in cui si evidenziavano tutta una serie di problemi il primo problema riguardava la relazione tecnica UPB diceva che aveva già fatto presente nelle scorse occasioni che il modello utilizzato dalla relazione tecnica o comunque dalla regione generale dello Stato in cui il frangente presentava alcune lacune o comunque alcune perplessità c'erano da questo punto di vista lo stesso UPB diceva manca l'incentivo a mantenere diciamo i costi bassi perché chiaramente se io non ho incentivo a pagare poco e il mio contraente non ha incentivo a offrirmi un buon servizio a basso prezzo perché chiaramente qui interviene lo Stato che ci mette il 110 del costo UPB ravvisava un problema non solo sulla questione legata al appunto al regime di competenza o di cassa per farci capire dal pubblico anche se è la cosa più complessa di così chiaramente però sul regime di competenza o di cassa appunto relativo al super bonus e quindi tutto il dibattito sul deficit e debito e via discorrendo e comunque relativamente alla dinamica del stock flussi che sul debito PIL sta pesando notevolmente ce lo dice Banca d'Italia ma anche nel DEF è stato riportato ecco c'è quell'elemento comunque abbastanza rilevante che sta frenando il rallentamento del debito e speriamo che continui così anche perché noi stiamo vivendo diciamo per le ragioni di scambio abbiamo un deflattore sulle importazioni che ci dà una mano importante nel far crescere il nostro il nostro PIL nominale chiaramente passo anche alla questione del report degli occupati io purtroppo ho questo problema e mi leggo le note Istat e appunto io ricordo perfettamente sono andato a recuperarlo mentre parlavi la nota Istat sugli occupati e chiaramente anche quella evidenzia un aspetto c'è una crescita di valore aggiunto nel settore anche dell'edilizia soprattutto importante come dici giustamente come riporti ma Istat aggiunge anche un elemento quando cresce la dimensione media di quell'impresa ora bisogna chiedersi quante imprese hanno visto la loro dimensione media crescere e soprattutto al termine del super bonus quella dimensione media rimane costante posto che stiamo parlando di media ci sarebbero un sacco di problemi sulle distribuzioni tuttavia assumiamo che la media sia un buon parametro quante rimarranno così domani perché noi abbiamo circa una cosa come 200.000 occupati in più nel settore dell'edilizia quando toglieremo il super bonus queste persone cosa succederà a loro perderanno il lavoro non lo perderanno senza considerare poi tutte le imprese finte che sono state create al fine di sfruttare il super bonus quello dubito che sia un grande valore aggiunto per l'economia del paese vengo anche un altro aspetto sempre su istat c'è il report sull'occupazione sui redditi uscito in concomitanza con l'occupazione che ci ricorda quanto l'occupazione nel settore dell'edilizia sia precaria e allora se faccio 2 più 2 diciamo il risultato non è molto confortante per quanto riguarda invece ad esempio il Movimento 5 Stelle io mi chiedo ok va bene il Movimento 5 Stelle è responsabile è il primo responsabile ma se anche tutti gli altri hanno dato manforte a questo punto non avrebbe più senso che la politica tutta facesse un mea colpa quindi non chiedo il mea colpa da parte di Italia Viva non chiedo il mea colpa da parte di un altro particolare partito politico tuttavia a questo punto bisognerebbe prendere la propria responsabilità e insomma dichiarare apertamente l'errore almeno il mio avviso personale ci sei Ivan? ok mi sentite? sì 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 allora anche qui per punti comunque ho intanto spostato il mio impegno di un quarto d'ora quindi se voi volete fino alle 7 ci sono noi eravamo già prima fino alle 7 ah perfetto allora per punti anche lì velocemente anzi partiamo dal debito deficit allora se volete anche dalla mia colpa quindi le metto insieme due quando si fa politica io scherzando dico sempre c'è una categoria che dovrebbe per costituzione essere a cui dovrebbe essere vietata la pratica politica che è quella dei professori universitari presenti compresi perché diciamo la struttura del professore universitario è tale per cui è sempre portato alla ricerca dell'ottimalità sempre e io smusate in faccia ho imparato che la politica non funziona così quindi è evidente che c'è questa distorsione da sanare quando sei là e quando il movimento 5 stelle prendiamo solo quello aveva 300 parlamentari su 900 anche Draghi non ha potuto fare sul super bonus quello che era necessario e quindi purtroppo come dire da punto di vista della realizzazione pratica sbatti contro i rapporti di forza che in politica sono l'unica cosa che contano ahimè quindi il mea culpa il mea culpa sul sulla misura sulla bella fatta penso che insomma da Renzi in giù tanti di Italia Viva l'abbiano già detta dopodiché ripeto quello che vi ho detto prima cioè io credo che il crimine vero sia stata la cessione dei crediti per il resto c'è stata una valutazione che poi in impatto non è stata quella sperata indubbiamente cioè io ho un grosso rimpianto sul costo opportunità cioè i 150 miliardi del super bonus ho il rimpianto del costo opportunità cioè cos'altro si sarebbe potuto fare con quei soldi quello è il grosso rimpianto che ho perché l'effetto di stimolo sull'economia c'è stato ma non è stato quello sperato e vedremo quello che è stato sulla crescita media dimensionale delle imprese e delle edilizie al momento non lo sappiamo sappiamo che ci sono state 11.000 se non ricordo male imprese nate e chiuse provammo con la SOA la certificazione a limitare questo fenomeno il più possibile e vedremo poi se tre anni dopo la fine del super bonus la dimensione media delle edilizie è aumentata o meno segnalano che vi ha presentato una proposta edilizie non solo due o più imprese che si fondano per crearne una con più di 15 dipendenti hanno diritto per cinque anni allo stesso credito d'imposta del 50% dell'IRES che il governo ha previsto ora per il reshoring cioè per le aziende che riportano la produzione per noi è più importante invece prevederlo per chi si fonde ma dicevo che ho il rimpianto del costo opportunità perché quello sui conti pubblici qua facciamo arrabbiare Luciano Capone anche qui siete persone serie quindi avete registrato tutto quello che ho detto cioè il super bonus non ha dato i risultati sperati e ha prodotto un rapporto costi benefici troppo squilibrato questo è un fatto ne sono convinto ho dato le spiegazioni del caso e via dopodiché la decisione Eurostat se confermata a giugno esclude il deficit dei prossimi anni da problemi noi abbiamo caricato tutto sui deficit passati no lo dico perché il governo lo userà invece come scusa per tutto quindi sul deficit non c'entrerà nulla il super bonus si vede comunque nella dinamica stop flux si si no no ma guardate a voi lo dico al governo che dirà siccome c'è stato super bonus non posso abbassare l'età nel caso penso che sia io che Ivano interverso sui nostri canali e dire che non è vero stiamo parlando in generale spero non fanno i tre il debito invece sì cioè si scarica sul debito tramite il fabbisogno si scaricano 39 miliardi all'anno se contiamo tutti i bonus edilizi e io non riconosco questa posizione io guardo il 110 e il 90 che sono il problema vero che sono stati quindi stiamo parlando non abbiamo ancora dati definitivi ma verosimilmente di una ventina 25 vedremo insomma facciamo 25 facciamo anche 30 questi 30 miliardi nei prossimi quattro anni si sommeranno a uno stock di 2.900 miliardi che diventerà 3.000 già a legislazione vigente nel 2026 è un bene ovvio che non è un bene però è questa la dimensione del fenomeno che stiamo osservando grazie a Santa Eurostat grazie a Santa Eurostat altrimenti avremmo avuto problemi veramente molto seri la vera partita sulla sostenibilità del rapporto debito PIL si gioca come voi sapete sulla dinamica del rapporto debito PIL che è data dal confronto fra il costo medio del debito e il tasso di crescita nominale dall'avanzo primario che riesce a sviluppare avere per quattro anni un chip di 20 miliardi su uno stock 2009 era meglio se non ci fosse stato sia chiaro però ecco cerchiamo di far capire che il governo e nessuno di noi che cercherà di dire siccome c'è il super bonus la finanza pubblica italiana è ingessata per i prossimi cent'anni sta dicendo una cosa che non è vera la relazione tecnica ragazzi nelle istituzioni si usano le relazioni tecniche della ragioneria generale dello Stato quella relazione l'abbiamo pubblicata tanto volte diceva no no tranquilli il costo spalmato in dieci anni all'epoca se non ricordo male è di 35 miliardi complessivo quindi 3 miliardi e mezzo all'anno la fecero così presero il costo del 65% e lo raddoppiarono cioè per stimare quanto sarebbe impattato sulle finanze pubbliche il 110 sapete cosa facciamo quanto è costato il 65% x ok 110 costa 2x anche se 110 non è esattamente il doppio questa stima la fece il dipartimento delle finanze la ragioneria generale dello Stato la bollinò ci mise un bollino e i parlamentari sono obbligati a usare quella come valutazione c'è uno su Twitter che dice no voi alla Camera dovete assumere dei consulenti esterni gente insomma quindi io poi come noto difendo Biagio Mazzotta è un grande servitore dello Stato però ecco la relazione tecnica era quella e non è cambiata altra cosa molto più grave secondo me ne chiederò al ministro Giorgetti in audizione il 23 aprile sul DEF come ha fatto la ragioneria a continuare a sbagliare previsioni anche pochi mesi fa sull'impatto dei bonus perché i 40 miliardi che si sono scaricati sul 23 non è roba del 2020 ma è errore di qualche mese fa quando i buoi erano ampiamente scappati dalla stalla quindi si capiva come funzionava qua alzo la mano io non voglio assolutamente colpevolizzare la ragioneria generale dello Stato che avrà i suoi buoni motivi se ha fatto quella cosa lì e spero che facciate chiarezza tuttavia come dice OCP potrebbero essere proprio delle truffe quei 40 miliardi è uscito un articolo di Gian Paolo Galli preferisco concentrarmi su quello finora le truffe acclarate sono 16 miliardi gran parte per fortuna recuperati però insomma va bene allora i prezzi attenzione al piccolo dettaglio perché io dico che il problema paradossalmente è stato più il facciate perché il 110 aveva l'asseverazione stiamo dicendo che l'asseverazione ha impedito comportamenti fraudolenti figuriamoci ma il 90% e gli altri bonus non ce l'avevano l'accelerazione quindi diciamo l'effetto sulla distorsione dei prezzi secondo me è avvenuto ahimè pure dagli altri in realtà mi sono perso qualcosa al dimensione di impresa ve l'ho detto quindi vedrei cioè di nuovo il discorso di prima quando si mette in campo un super bonus si cerca come qualsiasi altro provvedimento di stimolo si cerca di stimolare l'economia in maniera più duratura possibile e poi si capisce se è stato fatto o no l'impatto sul PIL l'abbiamo già detto anche se le stime dei moltiplicatori dovranno essere rifatte ora che il super bonus al 4 aprile ufficialmente è completato sul mia colpa pure l'ho detto posso chiederti una cosa velocissima Luigi i 16 miliardi di cui si parlava poco fa che hai citato di truffe come sono stati recuperati che hai detto che sono stati hanno annullato perlomeno da come ci risponde l'agenzia delle entrate ma anche su quello andremo più a fondo hanno annullato la spendibilità come credito d'imposta cioè quei soldi se riconosciuti come truffe prima di essere tirati in detrazione non potranno più essere riconosciuti però all'inizio io ricordo sicuramente da un report dell'agenzia della guardia di finanza che due miliardi sicuramente all'inizio volarono in Russia e in Cina da come ci dissero diciamo quindi sicuramente dei soldi li abbiamo persi definitivamente tra l'altro in quel report si diceva anche che gran parte dei crediti non erano stati controllati e anche no perché ripeto i 5 stelle imposero una situazione in cui tu ti collegavi a un portale e dicevi io vendo a Ivan Greco un milione di crediti d'imposta e la guardia di finanza sempre ci dice che la maggior parte di quei crediti era riconducibile ai tossicodipendenti delle comunità di recupero oppure c'erano paesi in interi di qualche zona d'Italia in cui tutti gli abitanti risultavano cessionari di crediti d'imposta per milioni quindi è evidente oppure l'intercettazione ve la ricordate di quell'imprenditore che disse lo Stato piace farsi pregare diciamo così non disse proprio così quindi per carità dopodiché chiudo su questo su questo punto la mia colpa a me piacerebbe diciamo visto che alla fine la sovranità appartiene a loro a noi al popolo che quei 13 milioni di italiani che il 4 marzo 2018 missero la croce sul movimento 5 stelle vorrei sentire loro di mia colpa perché guardate che in ultima analisi il discorso assieme a tanti altri ahimè viene da lì poi ripeto quante volte mi sono chiesto io che cosa si poteva far cadere il governo Conte noi l'abbiamo fatto cadere a gennaio del 21 perché l'abbiamo fatto cadere perché aveva presentato un PNRR che era una barzelletta noi ci accorgemmo che il PNRR sarebbe stato l'ultima spiaggia per risolvere i problemi di produttività di questo paese e facemmo cadere Conte su quello la storia poi la conosciamo vogliamo farlo cadere sul super bonus durante col paese in lockdown non lo so non ne sono convintissimo beh magari sapendo gli effetti che ha provocato tornando indietro si poteva fare ma allora io se vuoi parto da qui cioè sulla mia domanda perché ok vero gli italiani sono andati a votare nel 2018 tanta gente ha messo la X su il Movimento 5 Stelle tanta altra l'ha messa sulla Lega comunque insomma il PD ha preso il suo bel voto oddio magari più basso rispetto alle aspettative però non è che era così non so al 6% al 4% al 3% aveva comunque il suo bacino d'utenza quanto era il 17 il PD 19 forse no 17 forse vabbè fa niente la Lega 19 il PD 17 forse però io mi ricordo anche che a agosto al papete Salvini fece quella quella grandissima e divertentissima scena onestamente abbastanza raccapricciante per quanto riguarda le istituzioni italiane però tuttavia da persone che ormai non ha grandi speranze verso le istituzioni molto divertente confesso e poi ci fu la storia dei pieni poteri no e ci fu anche la storia del noi non agiremo diciamo con le tenebre e ci fu anche un'altra mossa una mossa molto interessante di Renzi quella di staccarsi dal PD non firmare l'accordo con il Movimento 5 Stelle e il giorno dopo appunto fornire supporto al Movimento 5 Stelle al PD col governo col Conte 2 formando una nuova forza politica Italia Viva insieme Italia C'è al Parlamento o comunque poi Italia C'è entrerà più tardi quindi anche questo va detto cioè voi comunque in quel momento avete deciso di supportare questa scelta insieme Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e nel momento di approvazione del super bonus io dubito il Movimento 5 Stelle avrebbe poi fatto tutte quelle opere di sussidio di trasferimenti su quale possiamo essere anche in disaccordo che hanno diciamo retto l'economia o comunque si sospetta abbiano retto l'economia e chiudo su Draghi ecco un'altra cosa su Draghi a me sembra che Draghi abbia sempre detto di non voler fare governo tecnico gli riconosco delle colpe anche qui col massimo rispetto verso la figura istituzionale e la figura di economista e tutto quello che ha fatto per l'euro tuttavia riconosco che anche lui abbia la sua parte in questa vicenda però Draghi non aveva un partito il suo governo era supportato da tutta una serie di parlamentari e chiaramente di gruppi parlamentari di partiti politici Draghi era stato chiamato non per mettere a posto il super bonus ma era stato chiamato per fare la campagna vaccinale e cercare di mettere a posto il PNRR e poco altro tant'è vero che non appena abbiamo iniziato a parlare di inceneritori giù una marea di problemi appena abbiamo iniziato a parlare di riforma del fisco giù altri problemi non appena abbiamo parlato di riforma della giustizia altri problemi e poi vabbè non voglio fare un riassunto della scorsa legislatura però mi sembra che le cose siano andate in un modo un pochino più sfumato ecco da questo punto no no ma allora dunque due punti vi parto da quest'ultimo ma è esattamente quello che dico cioè il fatto che la nostra sia una repubblica parlamentare rende molto più irrilevante di quello che la gente pensi chi fa il primo ministro ok perché alla fine i provvedimenti devono essere approvati dal parlamento e quel parlamento era dominato dal movimento 5 stelle e quel consiglio dei ministri pure quindi ogni volta che Draghi e ministro Franco dicevano bisogna fermare il super bonus e si alzavano i ministri prima e poi i deputati 5 stelle a dire se voi ci provate cade il governo come poi infatti è caduto sull'inceneritore quindi stiamo forse dicendo la stessa cosa nel senso che in ultima analisi contano alla volontà dei partiti ora si può dire quello però diciamo anche se tutti gli altri partiti avessero detto basta super bonus subito dall'ultimo militante al segretario non sarebbe stato possibile che il movimento 5 stelle lo continua a dire fra l'altro quindi stiamo dicendo la stessa cosa purtroppo conta il voto però scusami Luigi c'è Renzi che rivendica spesso ogni volta che va in televisione la questione di aver portato Draghi di aver fatto cadere Conte però all'atto pratico aver portato Draghi a quelle condizioni non è stata una gran vittoria l'atto pratico diceva Umberto prima anche perché sul PNRR abbiamo visto insomma che alla fine andranno buttati quasi tutti i soldi sul super bonus è rimasto alla fine della fiera mission lo diceva Umberto prima di Draghi furono campagna vaccinale PNRR io vi ricordo che quando abbiamo fatto cadere Conte l'argomento principale era se i centri vaccinali dovevano essere a forma di primula o a forma di di no no indubbiamente sulla campagna vaccinale il PNRR Draghi giura il 13 febbraio il PNRR bisognava consegnarlo inizio aprile è stato fatto il possibile per aggiustarlo è stato aggiustato certo il difetto era in origine indubbiamente io non so e spero di no che vengano buttati tutti i 200 miliardi ma sicuramente il PNRR non è stato quello che ottimamente avrebbe dovuto essere senza Draghi sarebbe stato molto 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 peggio e torno sul primo punto la domanda di Umberto ma il papete non c'entra nulla nel senso di nuovo ex post si possono fare tutti i ragionamenti del mondo quando nell'agosto 2019 Salvini fa il papete e Renzi decide di formare una maggioranza con i 5 stelle fa una manovra diciamo tipica di Matteo di tattica di posizionamento politico ex post per ex post anch'io allora ragiono per ex post se noi non avessimo fatto quella scelta saremmo andati ad elezioni non che ci sia nulla di male andare ad elezioni ma lo svolgimento degli eventi sarebbe stato un governo con Salvini presidente del consiglio Giorgia Meloni in probabilmente vice premier e quel governo avrebbe dovuto affrontare la pandemia e l'invasione russa dell'Ucraina con un presidente del consiglio segretario di un partito che ha un accordo di associazione smentito solo a chiacchiere finora con Russia Unita beh oddio però la Lega era in crollo cioè la Lega arriva al suo apice arriva al suo apice nelle elezioni del 2019 europee se uno si può vedere la super media new trend inizia a calare proprio per il discorso di cui sarebbe votato a settembre ragazzi uno che prende il 34% a giugno non prende il 10% settembre no verissimo diciamo che forse Italia era quello che era Giorgio Meloni era quello che era non certamente quello che è oggi e tra l'altro avrebbe se uno va a vedere le super media new trend il PD sarebbe stato il primo partito sempre che Italia Viva non si fosse tolta io ho sospetto e qua chiedo scusa per il sospetto che diciamo essendo che c'era già stato il cambio con Zingaretti e via discorrendo comunque c'era stata una bella tournée all'interno del PD molte persone che oggi sono in Italia Viva avrebbero perso il posto nelle eventuali elezioni del 2019 possiamo fare i 6 ma se volete aggiungo un'ultima cosa se posso sempre sui 6 ma però forse quando noi abbiamo provato il super bonus era a luglio del 2020 Draghi appunto giura a febbraio del 2021 ed è corretto ma mi sembra che la situazione tra luglio del 2020 e il febbraio appunto del 2021 e dal febbraio del 2021 fino a praticamente l'estate del 2021 a livello di privazioni della libertà concediamoci questa questa questo femmismo fossero tanto diverse nel senso il lockdown tosto c'è stato appunto da febbraio del 2020 fino a praticamente maggio giugno del 2020 da lì in avanti si è partiti con i coprifuochi oppure i weekend chiusi e cose di questo tipo quindi diciamo la situazione non dico che era migliore rosea eravamo tutti molto contenti non voglio far passare questo messaggio però chiaramente era molto molto inferiore rispetto alla prima ondata questo punto non l'ho capito bene ma forse ti chiedo un chiarimento dopo perché non ho capito benissimo però veramente sul resto ripeto possiamo fare un dibattito di politica e capire se fu giusto o no non andare alle elezioni nell'agosto 19 eccetera dice ex post per ex post faccio anch'io il controfattuale e il controfattuale di una scelta diversa mi mette i brividi ancora adesso a pensarci poi si può dire quello che volete di Renzi del PD questo non è fuori discussione è fuori dall'argomento di oggi non so se c'è un altro punto prima ma quello che dicevi adesso fammi capire se ho capito bene cioè sì Superbonus luglio 20 Draghi arriva nel 21 quando Superbonus dice Febbraio 21 quando come vi dicevo Superbonus fra l'altro nei fatti non inizia ancora cioè il tiraggio vero del Superbonus è seconda metà del 21 22 e 23 sì non c'era più il lockdown duro ma forse non ho compreso bene la critica in ogni caso prima che me la rispieghi il punto è sempre lo stesso la legislatura che va dal 23 marzo 18 al settembre 2022 non si poteva fare nulla senza l'assenso dei 5 stelle qualsiasi governo ci fosse qualsiasi pandemia ci fosse qualsiasi grado di lockdown ci fosse quindi il motivo per cui non si è potuto intervenire sul Superbonus anche ammettendo che le forze politiche lo volessero fare dei discorso di sopra che quando inizia l'albero della cuccagna tutti si sono buttati non si poteva fare perché il Parlamento era controllato dai 5 stelle quindi non so cosa ti riferivi quando ricevi un lockdown noi l'abbiamo fatto cadere uno degli esecutivi di quella legislatura quando abbiamo detto adesso basta adesso basta sul PNRR come vi dicevo e sulla pandemia perché vedevamo a curi con le primule il PNRR con Casalino che faceva i ricevimenti a Villa Panfili invece di ragionare su come mettere a posto 35 anni di crescita nulla della produttività abbiamo detto basta facciamo venire Draghi in una repubblica come la nostra non è che fa venire Draghi metti il mantello e fa Superman il Parlamento rimane quello successe così anche con Monti nel 2012 e di nuovo torniamo alle responsabilità politiche sempre ricordando che non c'era una palla di vetro che diceva guardate che nell'aprile 2024 sarà chiaro che si saranno spesi 150 miliardi per fare solo 60 miliardi o quelli che sono di PIL non funziona così la politica economica purtroppo ripeto quindi questa è come la vedo io no no io ci tengo a ribadire un aspetto non nell'aprile 2024 lo sappiamo lo sappiamo sì sì no perché quello che è questo voglio che sia acclarato perché secondo me ecco questo è un elemento ripeto un pb maggio 2020 questo è una cosa importante tuttavia però esattamente che dice dice guardate che ho dei dubbi sulla relazione tecnica dopo di che la relazione tecnica dice che ho dei dubbi sulla relazione tecnica è regressivo non abbiamo evidenze che possa andare bene e in più viene a eliminarsi il conflitto di interessi qua Michele mi ucciderà per aver utilizzato conflitto di interessi ma accetto volentieri il boia per semplificare il conflitto di interessi appunto tra chi commissiona i lavori e chi li fa quindi diciamo che gli elementi per dire che non era proprio il massimo a mio avviso personale c'erano sì ricordatevi che l'UPB se voi vedete qualsiasi report dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio sono i migliori in assoluto assieme a quelli di Banca Italia giustamente perché è un board indipendente diciamo mimica un po' il Congressional Budget Office negli Stati Uniti cioè il suo lavoro è far emergere le criticità delle misure e lo fa continuamente e lo fa benissimo quindi non è che l'ha detto solo per il super bonus certo che l'ha detto per tutto per tutta l'impalcatura del DLR che c'è da ridere come funziona che uno in audizione dice oh signori l'UPB ha detto questo che mi dici e il governo risponde no secondo me non è così guardate c'è la relazione tecnica che dice che non è così e che vuoi fare i partiti di nuovo per la ventesima volta alla fine gli andava bene così e quindi non ho capito bene quale doveva essere il momento in cui veniva diciamo no 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 il punto è che non si può dire ad aprile 2024 ce ne rendiamo conto no però attenzione chiaramente l'UPB era limitato nella sua analisi io parlavo della dimensione dei costi la dimensione dei costi come sai già anche solo a settembre scorsa il punto di cui chiederemo conto a Giorgetti anche solo sei mesi fa non c'era idea dei costi a settembre si stima un impatto solo del 2023 inferiore di 40 miliardi quindi c'è qualcosa veramente ma è ovvio poi del resto perché probabilmente la ragioneria da quel punto di vista a un certo punto però noi vorremmo chiedere come mai Enea che dovrebbe avere un monitoraggio quasi in real time dell'avvenuto come mai è la domanda appunto che aspettiamo di fare a Giorgetti col monitoraggio dell'Enea non si è riusciti ad avere un cruscotto con l'andamento in tempo reale di questi benedetti crediti in imposta questo è il punto ok no allora rispiego la critica la critica nasce dal fatto che appunto tu prima hai scomodato alcuni eventi in passato quindi da lì mi sono ricollegato agli eventi tra il 2018 e appunto il 2021 altrimenti io non avrei neanche voluto andare fuori tema ha detto francamente però secondo me era comunque un elemento interessante allora il punto è questo tu dici noi non potevamo diciamo tirarci indietro anche all'inizio hai fatto una buona panoramica raccontandoci questo evento tuttavia qui secondo me c'è un elemento critico nel senso che appunto a luglio si approva il super bonus e se vado indietro col tempo prima di tornare a una situazione di vita tranquilla definiamola così tra il 2019 e appunto il 2022 devo attendere praticamente la metà del 2021 più o meno quindi mi domando se ad esempio a luglio non si poteva far cadere il governo Conte se era così tanto un ultimatum e a quel punto andare a elezioni durante l'estate eventualmente oppure eventualmente ripeto chiamare appunto un governo tecnico come quello di Draghi e anticiparlo ad esempio cioè non mi è chiaro ad esempio questo elemento di non posso fare a meno di approvare il DL rilancio questo mi sfugge personalmente ma al cadere il governo Conte a luglio 2020 invece poi lo facciamo cadere noi cinque mesi dopo non lo so quanta differenza avrebbe fatto l'elemento del DL rilancio lo ripeto far cadere un governo col paese ancora in lockdown perché quando il DL rilancio esce dalle stanze va in gazzetta in realtà perché come sapete i decreti vanno in gazzetta subito e poi entro 60 giorni vengono convertiti e va in gazzetta la legge di conversione ma col decreto rilancio in gazzetta a maggio col paese ancora in lockdown forse il lockdown finisce il 4 maggio se non ricordo male farlo cadere e quindi nei fatti annullare non solo il super bonus che sarebbe stata cosa buona e giusta soprattutto la cessione dei crediti annullare 70 miliardi di manovra con cassa integrazione rimborsi eccetera no Umberto mi dispiace non penso secondo te secondo te non avremmo fatto quei 70 miliardi beh ripeto di nuovo se citarsi in contro è complicato però voglio fare scusami perdonami non voglio fare quello che è col senno di poi tuttavia vedendo la struttura dei partiti italiani mi sembra che qualcuno si sarebbe tirato in diciamo che non c'era uno sono molto scettico su questo no dico sono molto scettico su controfattuali di questo tipo però sicuramente non sarebbe servito cambiare governo perché appunto il Parlamento sarebbe rimasto quello i 5 Stelle sarebbero rimasti la forza di gran lunga preponderante e quindi il super bonus ti sarebbe tornato comunque bisognava sciogliere il Parlamento e andare a elezioni col paese in lockdown non lo so può darsi sì diciamo onestamente non lo riesco a vedere ecco quella superiorità a prescindere ma anche come battaglia politica cioè io non non la vedo così difficile detto francamente loro non vogliono dare 70 miliardi perché non approviamo una cosa da 2 milioni me lo dici tu appunto che la relazione tecnica sottostimava notevolmente il costo del super bonus era la battaglia più facile della storia soprattutto con l'abilità oratoria che avete detto francamente sembra di assistere ai bambini di tre anni che parlavano di università quando facemmo cadere Conte nel gennaio 21 già lì la gente ci fermava per strada per rimproverarci o anche peggio abbiamo alcuni colleghi parlamentari alcuni lecitati che vennero inseguiti per strada perché con la pandemia fate cadere Conte non so se vi ricordate quello che è successo cioè beh ok però e quindi figurati farlo farlo sei mesi prima che c'era proprio il lockdown sì ok ma e quindi cioè nel senso quello che dico io è che ipotizziamo pure che l'ex strategy o comunque l'endgame fosse vabbè ci saremmo tirati dietro tutti ma penso che l'obiettivo della politica non sia quello di accontentare il popolo a un certo punto voi stessi vi fate promotori di questo messaggio e allora se io penso Italia Viva e coloro i quali mi dicono che bisogna le fare bisogna fare le cose in modo corretto benissimo a livello di coerenza sareste stati i migliori ma guardate forse no 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 è una domanda che devo farvi forse allora perché ripeto su coerenza e su capacità di dire guardate vado anche contro il popolo guardate nessuno sta dicendo no no lo dimostrammo cinque mesi dopo perché noi Conte lo tirammo giù non cinque anni dopo cinque anni dopo certo però il super bonus è stato in piedi aspetta però forse la domanda che vi devo fare per chiarire questa storia è un'altra ma voi nel maggio 2020 lo sapevate che il super bonus sarebbe stato sto casino cioè dove sta dove sta la dichiarazione di Umberto e dire oh fermatevi che andiamo nella merda dove sta la vostra dichiarazione allora prima analisi il fatto che io l'abbia detto non l'abbia detto non cambia nulla eh no perché no 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 fermo perché il punto è ti ripeto l'ho già detto noi facciamo una misura che per quanto no però il fatto che tu la metti Luigi non è che potete sapere dove Luigi hai fatto la domanda a Umberto fallo rispondere no 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 il fatto che pensa io potevo anche essere un super fan del super bonus non cambia assolutamente nulla dopodiché se proprio ci tieni a sapere cosa sto facendo io a maggio 2020 allora ti dico che dal primo maggio 2020 fino al 25 maggio del 2020 con tutta probabilità ero sepolto dai libri perché mi laureo il 25 maggio del 2020 con la sessione straordinaria del covid essendo che purtroppo diciamo me l'avete fatta spostare o meglio non voi ci mancherebbe però diciamo le evidenze me l'hanno fatta spostare dopodiché con tutta probabilità i 15 giorni successivi li ho passati a ubriacarmi in modo molto importante detto ciò comunque sia io leggo il report dell'UPP con abbastanza costanza quindi direi che non c'era tanto ragazzi no anche per concludere che immagino che il tempo no no l'ho fatta per battuta per chiudere per slemmatizzare però quella è una fallanza logica diciamo è una considerazione se volete anche personale io ho passato appunto parte del mio impegno politico facendo tesoro del mio impegno della mia professione accademica che è quella insomma della ricerca verso l'ottimalità della guardate Salo Tommaso Nannicini forse che disse una frase bellissima dice a ciascuno i suoi difetti no pensare che l'accademia la devo ritrovare insomma però il senso era è ovvio che non si può chiedere all'accademico di fare marketing come fa il politico è ovvio che non si può chiedere al politico di fare ogni azione secondo la rigida la rigidità dell'accademico a ciascuno i suoi difetti qualcosa del genere cioè purtroppo la politica soprattutto in Italia dove è gravemente malata secondo me non è il mondo meraviglioso che voi ogni tanto dipingete cioè in ogni punto nel senso diciamo così la politica il decision making l'attività di governo in questo paese non può seguire le regole che ogni tanto qualcuno dice cioè allora in ogni momento c'è tutti sanno esattamente la cosa perfetta la cosa perfetta immediatamente convince tutti perché la coalizione di governo sono tutti uomini e donne illuminate che conoscono il modello e sanno cosa sia dopo di che ogni volta che implementi la politica ti appare uno schermo con tutta la l'impulse response function da qui al 2050 con probabilità uno che accada se qualcuno di voi o qualcuno di voi pensa che la politica sia questo cortesemente facciamo subito una riforma costituzionale che bieti a queste persone di avvicinarsi alla politica lo dico come provocazione ovviamente lo dico avendoci sbattuto il muso nel senso che io pensavo fosse così ci ho sbattuto il muso e quindi che succede hai due scelte o te ne stai fuori e continui a buttare merda sulla politica e su tutti i suoi partecipanti tutti perché nessuno è il social planner perfetto oppure ci stai dentro e provi a influenzarlo vincendo la sfida del consenso perché e chiudo su questo i rapporti di forza in politica sono l'unica cosa che conta e grazie a Dio non siamo nella Russia di Putin i rapporti di forza si ottengono soltanto conquistando hearts and minds degli elettori che è quello che nel nostro piccolo ognuno di noi prova a fare appunto perché la politica si basa su rapporti di forza e io aggiungo anche l'accountability che è che sta fuori dalla politica non lo fa per disinteresse ma appunto perché è conscio del fatto che ci sono persone che vanno in politica e si divertono o trovano piacere nel discutere nelle aule del Parlamento e ci sono persone che trovano invece piacere nel diciamo sottolineare alcuni elementi da fuori chiaramente non lo facciamo semplicemente per il bidinaro ci mancherebbe lo facciamo anche probabilmente per altre altre questioni che vanno dalle più nobili dalle meno nobili tuttavia penso che entrambe le due sfere siano importanti e complementari quindi mi fa piacere che tu abbia scelto di scendere in campo ok scusami questo berlusconismo chiedo il paese che è l'Italia è il paese che è l'Italia esatto chiedo scusa le fiducia ai minimi tuttavia a questo punto si potrebbe criticare chiunque sta fuori da Luciano Capone visto che l'abbiamo citato e gli mandiamo un grande saluto Capone va criticato per l'abbigliamento che io vi prego anche voi di fare un appello cioè le cravate i gilet eccetera sono qualcosa di indegno di un paese civile quindi vi prego di un appello sì sì assolutamente vabbè comunque sia insomma penso che il senso sia stato restituito assolutamente dobbiamo penso che tutti e due tutti e due queste sfere debbono andare avanti ok senza però dire eh ma l'altra sfera non se ne è accorto posso che in verità Luciano Capone visto che ci tieni già a maggio del 2020 scriveva un articolo sul super bonus sottolineando tutta una serie di problemi quindi direi proprio che forse anche Costantino De Blasi sì 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 anche Costantino De Blasi Argiolas non voglio avere l'ultima parola no te la concedo in verità Federico Freni che anche proprio Luciano stesso lo dice guardate che c'è solo uno che dall'inizio ha posto il problema della cessione del credito ecco ve lo lascio dire a lui chi Freni dice essere questo uno che l'ha posto quindi non ho nulla da questo aggiungere è ovvio dopodiché certo stavo in una maggioranza politica non ero non sono non sarò il capo del mio partito politico quindi non avrei potuto io decidere di togliere l'appoggio a un governo grazie a Dio l'abbiamo deciso cinque mesi dopo anche se per ragioni diverse dal super bonus ma forse persino più importanti come il piano vaccinale e il PNRR quindi non è che a un certo punto ci hanno sbagliato io la cessione dei crediti il fatto che sarebbe stata il vero vulnus di questa storia su questo non ho nulla da rimproverarmi se non che ero lì rappresentavo una forza politica che non aveva i rapporti di forza per fare alcun che va bene io ti ringrazio per essere rimasto cinque minuti in più grazie a voi grazie a voi ragazzi grazie grazie Luigi grazie Umberto buon lavoro ciao alla prossima ciao alla prossima grazie buono come ti è parso? beh bene bene cioè c'era Gianluca che è un ragazzo in chat che ha scritto alla fine del dibattito quello che ne esce è abbiamo fatto cazzate in buona fede e quando abbiamo iniziato a sentire Puzzo l'abbiamo detto ma più di quello non si poteva fare mi pare che Maratin più o meno abbia detto questo però poi bisogna vedere insomma se è vero vabbè insomma io direi che sono soddisfatto quello che volevo ottenere l'ho ottenuto praticamente nei primi cinque minuti quindi da lì in avanti è stato molto più sereno il tutto grazie buono Ivan è stato un piacere altrettanto un salutone ai tuoi follower ai tuoi iscritti anche ai tuoi like condividete abbonatevi fate i bravi insomma estatevi discretamente bene ciao ciao ciao